Quanto ci tenevo io particolarmente che prima della fine di questa campagna elettorale riuscissimo a trovare un momento per stare insieme, per dare l'idea di questa compattezza. Ci ho lavorato come ci hanno lavorato gli altri, ma insomma per me forse una responsabilità di più si sa che è competenza delle donne riunire la famiglia, come sempre, fa a Natale, fa sempre. Quindi anche in questa occasione ho fatto, diciamo, ci ho messo del mio... A proposito di quello delle donne e di quello che ha appena detto Raffaele, che dice che sono pericolosi i 5 stelle perché sono contro tutti, contro tutto, si devono sfogare. Diamo un consiglio alle signore perché poi vadano a votare bene. Pichiate prima il marito, no? E quindi dopo vanno, sono sfogate e votano per noi. Attenzione perché se le donne pichiano il marito, quello è arrabbiato e può dare 5 stelle, come fanno tutti quelli che sono arrabbiati, quindi bisogna fare attenzione.